ciao fans sono scomodissimo è un sabato pomeriggio di fine novembre luna al lavoro quindi sono da solo e volevo sperimentare un giro invernale quindi mi avventurerò verso le montagne siamo passati a 10 gradi ma si sta ancora abbastanza bene devo essere sincero è quasi meglio che l'estate guardate aspettate che mi fermo un secondo qua a farvi vedere come si vede giù guardate quanto è limpido oggi e come si vede bene di sotto questo qui davanti a voi è il lago maggiore quello la è il lago di varese e poi il lago maggiore si vede dove diventa ticino la in fondo pazzesco dall'altro lato si vedrà sicuramente il lago d'orta nel lago di mergozzo adesso ci sono 7.5 gradi e sono le tre e mezza del pomeriggio madò che spettacolo di paesaggio i gradi sono diventati 6.9 inizio a patire il freddo le mani e siamo praticamente sulla vetta adesso raggiungo il tornante dove c'è un ottimo visuale sia sul lago maggiore che sul lago d'orta e proverò a far volare il mavic da lì quello è il punto per scelto adesso tiriamo fuori il mavic e vogliamo questo è il punto per scelto è il punto per scelto di